Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e tra esattamente 30, se non 31 o 32, il banner del Dream Festival cambierà, 32 secondi e non minuti, cambierà e quindi entrerà in scena Gino e automaticamente Gino e Brian, sono i due personaggi, gli unici due personaggi che mi interessano in questo Dream Festival. Sto sistemando un attimo l'audio, quindi ok, dovrebbero essere entrati, no, manca ancora 11 secondi, manca ancora 10 secondi, manca ancora 10 secondi, questo video è proprio fatto proprio al secondo, cioè proprio nello stesso secondo in cui escono, boom, ok, sono usciti? Sono usciti? Ci siamo? Ci siamo? No, ci siamo, sì, ci siamo, ci siamo, Dream Festival, Gino, 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 c'è Gino, c'è Gino, proprio pullato alla netta, cioè proprio nello stesso secondo in cui è uscito, andiamo di pull, arcobaleno, arcobaleno, ce l'ha detto proprio, ha detto Fradmo, tu, bellissimo, ha detto Fradmo, tu stai là per me, io non ti posso deludere, vai, due, Gino, Brian, 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 sì, la vacacchitela, vai Gino, 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 Ma fa' c**o Mark Leyndest! Ah, ok.